L'assessore Saltamartini rispondendo a un'interrogazione del PD ha comunicato ufficialmente che la Regione ogni giorno aggiornerà la pagina dei contagiati comune per comune. Questa è una risoluzione votata da tutto il Consiglio regionale circa due mesi fa, di cui ero primo firmatario e proponente e sono felice che la Regione finalmente distribuisca questo dato perché già dai primi giorni emerge una situazione molto chiara e forse che i cittadini non percepivano quello che i comuni come Fano, la Vallata del Metauro, in questo momento c'è un alto tasso di contagiosità cioè ci sono tanti positivi e con lo screening di massa stiamo trovando anche gli asintomatici ma i positivi continuano a aumentare giorno per giorno. Quindi l'invito è a monitorare comunque la situazione di ogni comune anche i sindaci avranno questo strumento che è stato chiesto da tanto tempo e quindi benvenga questo nuovo strumento maggiore attenzione a parte di tutta la cittadinanza, continuiamo a vivere la nostra vita ma sempre con le precauzioni.